L'imbecille di Luigi Pilandello Ma che c'entrava infine Mazzarini, il deputato Guido Mazzarini, col suicidio di Pulino? Pulino? Ma come? Si era ucciso Pulino? Lulù Pulino, sì, due ore fa. Lo avevano trovato in casa che pendeva dall'ansola del lume in cucina. Impiccato! Impiccato, sì! Che spettacolo! Nero, con gli occhi e la lingua fuori, le dita raggricchiate. Ah, povero Lulù! Ma che c'entrava Mazzarini? Non si capiva niente. Una ventina di energumeni urlavano nel caffè con le braccia levate. Qualcuno era anche montato sulla sedia, attorno a Leopoldo Paroni, presidente del circolo repubblicano di Costa Nova, che urlava più forte di tutti. Imbecille! Sì, sì, lo dico e lo sostengo! Imbecille! Imbecille! Gliel'avrei pagato io il viaggio! Io gliel'avrei pagato! Quando uno non sa più che farsi della propria vita, per Dio, se non fa così è un imbecille! Imbecille! Scusi, che è stato? Domandò un nuovo venuto, accostandosi intronato da tutti quegli urli, e un po' perplesso, a un avventore che se ne stava discosto, appartato in un angolo in ombra, tutto aggruppato, con uno sciale di lana sulle spalle e un berretto da viaggio in capo, dalla larga visiera che gli tagliava con l'ombra metà del volto. Prima di rispondere, costui levò dal pomo del bastoncino una delle mani ischeletrite, nella quale teneva un fazzoletto appollottolato, e se lo portò alla bocca, sui baffetti squallidi, spioventi. Mostrò così la faccia smunta gialla, su cui era ricresciuta rada rada, qua e là, una barbettina da malato. Con la bocca otturata combatté un pezzo, sordamente, con la propria gola, ove una tosse profonda irrompeva, rugliando tra sibili. Infine disse con voce cavernosa, «Mi ha fatto venire aria accostandosi!» «Scusi, lei, non è di Costa Nova, è vero?» E raccolse e nascose nel fazzoletto qualche cosa. Il forestiere, dolente e mortificato, imbarazzato dal ribrezzo che non riusciva a dissimulare, rispose, «No, sono di passaggio!» «Siamo tutti di passaggio, caro signore!» E aprì la bocca, così dicendo, e scoprì i denti in un ghigno frigido, muto, restringendo in fitte rughe, attorno agli occhi aguzzi, la gialla cartilagine del viso emaciato. Guido Mazzarini, riprese poi lentamente, è il deputato di Costa Nova, grand'uomo, estropicciò l'indice e il pollice d'una mano, a significare il perché della grandezza. Dopo sette mesi dalle elezioni politiche, a Costa Nova, caro signore, ribolle ancora furioso, come vede, lo sdegno contro di lui perché, avversato qui da tutti, è riuscito a vincere col suffragio ben pagato delle altre sezioni elettorali del collegio. Le furie non sono svaporate, perché Mazzarini, per vendicarsi, ha fatto mandare al municipio di Costa Nova... Si scosti, si scosti un poco, mi manca l'aria. Un regio commissario? Grazie. Già, un regio commissario, cosa... cosa di gran momento? Eh, un regio commissario. Allungò una mano e, sotto gli occhi del forestiere, che lo mirava stupito, chiuse le dita, lasciando solo ritto il mignolo, esilissimo. Appuntì le labbra e rimase un pezzo intentissimo a fissar l'unghia livida di quel dito. Castanova è un paese, disse poi. L'universo, tutto quanto, gravita attorno a Costa Nova. Le stelle, dal cielo, non fanno altro che sbirciar Costa Nova. E c'è chi dice che ridano, c'è chi dice che sospirino dal desiderio d'avere in sé ciascuna una città come Costa Nova. Sa da che dipendono le sorti dell'universo? Dal partito repubblicano di Costa Nova, il quale non può aver bene, in nessun modo, tra Mazzarini da un lato e l'ex sindaco Cappadona dall'altro, che fa il re. Ora, il consiglio comunale è stato sciolto e per conseguenza l'universo è tutto scombussolato. Eccoli là, li sente, quello che strilla più di tutti è Paroni, sì, quello là col pizzo, la cravatta rossa e il cappello alla lobbia. Strilla così perché vuole che la vita universa e anche la morte stiano a servizio dei repubblicani di Costa Nova. Anche la morte, sì signore. Si è ucciso Pulino, sa chi era Pulino, un povero malato come me. Siamo parecchi a Costa Nova, malati così e dovremmo servire a qualche cosa. Stanco di penare, il povero Pulino oggi si è impiccato all'ansola del lume in cucina. Eh, ma così no, non mi piace. Troppa fatica a impiccarsi. C'è la rivoltella, caro signore. Morte più spiccia. Bene, sente che dice Paroni. Dice che Pulino è stato un imbecille, non perché si è impiccato, ma perché prima di impiccarsi non è andato a Roma ad ammazzar Guido Mazzarini. Già, perché Costa Nova e conseguentemente l'universo rifiatasse. Quando uno non sa più che farsi della propria vita, se non fa così, se prima di uccidersi non ammazza un Mazzarini qualunque, è un imbecille. Gliel'avrebbe pagato lui il viaggio, dice. Con permesso, caro signore. Salzò di scatto, si strinse da sotto con ambo le mani lo scialle attorno al volto fino alla visiera del berretto. E così, imbaccuccato, curvo, lanciando occhiatacce al crocchio degli urloni, uscì dal caffè. Quel forestiere di passaggio restò imbalordito, lo seguì con gli occhi fino alla porta, poi si volse al vecchio cameriere del caffè e gli domandò costernatissimo chi è? Il vecchio cameriere tentennò il capo amaramente, si picchiò il petto con un dito e rispose sospirando. Anche lui, eh, poco più potrà tirare, tutti di famiglia, già, due fratelli e una sorella. Studente, si chiama Fazio, Luca Fazio, colpa della madraccia, sa, per soldi, sposò un tisico, sapendo che era tisico. Ora, lei sta così, grossa e grassa in campagna come una badessa, mentre i poveri figliuoli a uno, a uno, peccato, sa che testa ha quello lì? E quanto ha studiato, dottor? Lo dicono tutti, viene da Roma, dagli studi, peccato. E il vecchio cameriere accorse al crocchio degli urloni che, pagata la consumazione, si disponevano a uscire dal caffè con Leopoldo Paroni in testa. Serataccia, umida di novembre, la nebbia s'affettava, bagnato tutto il lastrico della piazza e attorno a ogni fanale sbadigliava un alone. Appena fuori della porta del caffè tutti si tirarono sul bavero del pastrano e ciascuno, salutando, salviò per la sua strada. Leopoldo Paroni nell'atteggiamento che gli era abituale, disdegnosa, accigliata, fierezza, sollevò di traverso il capo e così colpizzo all'aria attraverso la piazza, facendo il mulinello col bastone. Imboccò la via di contro al caffè, poi volto a destra al primo vicolo in fondo al quale era la sua casa. Due fanaletti piognucolosi affogati nella nebbia stenebravano a malapena quel lercio budello, uno a principio, uno infine. quando Paroni fu a metà del vicolo nella tenebra e già cominciava a sospirare al barlume che arrivava a fioco dall'altro fanaletto ancora remoto, credette di discernere laggiù in fondo, proprio innanzi alla sua casa, qualcuno appostato. Si sentì rimescolare tutto il sangue e si fermò. Chi poteva essere lì a quell'ora? c'era uno senza dubbio ed evidentemente appostato, lì proprio innanzi alla porta di casa sua. Dunque per lui, non per rubare, certo, tutti sapevano che egli era povero come cincinnato, per odio politico allora. Qualcuno mandato da Mazzarini o dal regio commissario? Possibile, fino a tanto. e il fiero repubblicano si voltò a guardare indietro perplesso, se non gli convenisse ritornare al caffè o correre a raggiungere gli amici da cui si era separato or ora. Non per altro per averli testimoni dell'aviltà dell'infamia dell'avversario, ma s'accorse che l'appostato, avendo udito certamente nel silenzio il rumore dei passi fin dal suo entrare nel vicolo, gli si faceva incontro, là dove l'ombra era più fitta. Eccolo, ora si scorgeva bene, era imbaccuccato. Paroni riuscì a stento a vincere il tremore e la tentazione di darsi la gambe. Tossì, grido forte, chi è là? Paroni, chiamò una voce cavernosa. Un'improvvisa gioia invase e sollevò Paroni nel riconoscere quella voce. Ah, Luca Fazio, tu, lo volevo dire, ma come? Tu qua, amico mio, sei tornato da Roma? Oggi, rispose cupo Luca Fazio, ma aspettavi, caro? Sì, ero al caffè, non mai visto. No, affatto. Ah, eri al caffè? Come stai? Come stai, amico mio? male, non mi toccare. Hai qualche cosa da dirmi? Sì, grave. Grave, eccomi qua. Qua no, su, a casa tua. Ma, c'è cosa? Che c'è, Luca? Tutto quello che posso, amico mio. T'ho detto, non mi toccare, sto male. Erano arrivati alla casa. Paroni trasse di tasca la chiave, aprì la porta, accese un fiammifero e prese a salire la breve scaletta Erta seguito da Luca Fazio. Attento, attento agli scalini. Attraversarono una saletta, entrarono nello scrittoio appestato da un acre fumo stagnante di pipa. Paroni accese il sudicio lumetto bianco a petrolio sulla scrivania ingombra di carte e si volse premuroso al fazio. Ma lo trovò con gli occhi schizzanti dalle orbite, il fazzoletto premuto forte con ambo le mani sulla bocca. La tosse lo aveva riassalito terribile a quel puzzo di tabacco. Oddio, stai proprio male, Luca! Questi dovette aspettare un pezzo per rispondere. Chi no più volte il capo si era fatto cadaverico. non chiamarmi amico e scostati, prese infine a dire sono agli estremi. No, resto, resto in piedi, tu scostati. Ma, ma io non ho paura, protestò Paroni. Non hai paura, aspetta, schignò Luca Fazio. Lo dici troppo presto. A Roma, vedendomi così agli estremi, mi mangiai tutto. Servai solo poche lire per comperarmi questa rivoltella. Cacciò una mano nella tasca del pastrano e ne trasse fuori una grossa rivoltella. Leopoldo Paroni, alla vista dell'arma, in pugno a quell'uomo in quello stato, diventò pallido come un cencio. Levò le mani, balbettò. Che, che è carica, o è Luca? Carica, rispose frigido il Fazio. Hai detto che non hai paura? No, ma, se, Dio liberi, scostati, aspetta. M'ero chiuso in camera a Roma per finirmi, quando, con la rivoltella già puntata alla tempia, ecco che sento picchiare all'uscio. tu a Roma. A Roma. Apro. Sai chi mi vedo davanti? Guido Mazzarini. Lui, a casa tua. Luca Fazio fece di sì più volte col capo, poi seguitò. Mi vide la rivoltella in pugno e subito, anche dalla mia faccia, comprese che cosa stessi per fare. Mi corse innanzi, ma ferrò per le braccia. mi scosse e mi gridò. Ma come? Così tu uccidi? Oh Luca, sei tanto imbecille. Ma va, se vuoi far questo, ti pago io il viaggio. Corri a Costa Nova e ammazzami prima, Leopoldo Paroni. Paroni, intentissimo finora altruce e strano discorso, con l'animo in subbuglio nella tremenda aspettativa di una qualche atroce violenza davanti a lui, si sentì d'un tratto sciogliere le membra e aprì la bocca a un sorriso squallido, vano. Scherzi! Luca Fazio si trasse un passo indietro, ebbe come un tiramento convulso in una guancia presso il naso e disse con la bocca scontorta, non scherzo. Non scherzo, Mazzarini mi ha pagato il viaggio ed eccomi qua. Ora io prima ammazzo te e poi mi ammazzo. Così dicendo, levò il braccio con l'arma e mirò. Paroni atterrito, con le mani innanzi al volto, cercò di sottrarsi alla mira gridando, sei pazzo, Luca sei pazzo. Non ti muovere, intimò Luca Fazio. Pazzo, eh? Ti sembro pazzo? E non hai urlato per tre ore al caffè che Polino è stato un imbecille perché prima di impiccarsi non è andato a Roma ad ammazzar Mazzarini. Leopoldo Paroni tentò di insorgere. Ma c'è differenza per Dio! io non sono Mazzarini! Differenza, esclamò il Fazio tenendo sempre sotto mira il Paroni. Che differenza vuoi che ci sia tra te e Mazzarini? Per uno come me o come Polino a cui non importa più nulla della vostra vita e di tutte le vostre pagliacciate. Ammazzar te o un altro, il primo che passa per via e tutt'uno per noi. Ah, siamo imbecilli per te se non ci rendiamo strumento all'ultimo del tuo odio o di quello d'un altro, delle vostre gare, delle vostre buffonate. Ebbene, io non voglio essere imbecille come Polino e ammazzo te. Per carità Luca, che fai? Ti sono sempre stato amico. Prese a scongiurar Paroni storcendosi per scansare la bocca della rivoltella. guizzava veramente negli occhi di Fazio la folle tentazione di premere il grilletto dell'arma. Eh, disse col solito ghigno frigido sulle labbra, quando uno non sa più che farsi della propria vita. Buffone, stai tranquillo, non t'ammazzo. Da bravo repubblicano tu sarai libero pensatore, Ateo, certamente, se no non avresti potuto dire imbecille a Polino. Ora tu credi che io non t'ammazzi perché spero gioie e compensi in un mondo di là? No, sai, sarebbe per me la cosa più atroce credere che io debba portarmi altrove il peso delle esperienze che mi è toccato fare in questi 26 anni di vita. Non credo a niente, eppure non t'ammazzo. ne credo d'essere un imbecille se non t'ammazzo. Ho pietà di te, della tua buffoneria, ecco, ti vedo da lontano e mi sembri così piccola e miserabile, ma la tua buffoneria la voglio patentare. Come? Fece Paroni con una mano a campana non avendo udito l'ultima parola nell'intronamento in cui era caduto. Patentare? sillabò Fazio. Ne ho il diritto, giunto come sono al confine e tu non puoi ribellarti, siedi là e scrivi. Gli indicò la scrivania con la rivoltella, anzi, quasi lo prese e lo condusse a seder lì per mezzo dell'arma puntata contro il petto. Che vuoi che scriva? balbettò Paroni annichirito. quello che ti detterò io, ora tu stai sotto, ma domani quando saprai che mi sono ucciso, tu rialzerai la cresta, ti conosco, e al caffè urlerai che sono stato un imbecille anch'io, no? ma non lo faccio per me, che vuoi che mi importi del tuo giudizio, voglio vendicare Pulino, scrivi dunque, lì, lì va bene, due parole, una dichiarazioncina, io qui sottoscritto mi pento, ah no, per Dio, scrivi sai, a questo solo patto ti risparmio la vita, o scrivi o t'ammazzo, mi pento d'aver chiamato imbecille Pulino questa sera al caffè tra gli amici, perché prima ad uccidersi non è andato a Roma ad ammazzar Mazzarini, questa è la pura verità, non c'è una parola di più, anzi lascio che gli avresti pagato il viaggio, hai scritto, ora seguita, Luca Fazio, prima ad uccidersi è venuto a trovarmi, vuoi metterci armato di rivoltella, mettilo pure, armato di rivoltella, tanto non pagherò la multa per portodarma abusiva, dunque, Luca Fazio è venuto a trovarmi armato di rivoltella, hai scritto, e mi ha detto che conseguentemente anche lui, per non essere chiamato imbecille da Mazzarini o da qualche altro, avrebbe dovuto ammazzar me come un cane, è scritto come un cane, bene, a capo, poteva farlo e non l'ha fatto, non l'ha fatto perché ha avuto schifo e pietà di me e della mia paura, gli è bastato che gli dichiarassi che il vero imbecille sono io. Paroni, a questo punto congestionato, scostò furiosamente la carta e si trasse indietro protestando questo poi che il vero imbecille sono io ripete freddo perentoriamente Luca Fazio la tua dignità la salvi meglio caro mio guardando la carta su cui scrivi anziché quest'arma che ti sta sopra hai scritto firma adesso si fece porgere la carta la lesse attentamente disse sta bene me la troveranno addosso domani la piegò in quattro e se la mise in tasca consolati Leopoldo col pensiero che io vado a fare adesso una cosa un tantino più difficile di quella che Aurora hai fatto tu buonanotte